uno dei punti che volevo toccare oggi è sempre il discorso carriera lavoro identità professionale mi rendo conto che sono rappresentano tre concetti cardine che spesso stupiscono le persone quando vengono inquadrati o ridefiniti in in una maniera specifica e vi ricordo come io li affronto perché in queste settimane ho fatto diverse sessioni di consulenza di carriera career coaching come chiamarle e questi sono punti che tornano costantemente in in discussione e credo che siano veramente fondamentali da da chiarire sapete io faccio sempre distinzione tra lavoro e carriera perché quello che io definisco il lavoro è quello che voi fate in questo momento per l'azienda quindi ho un mio job title o l'azienda o le cose di cui sono responsabile o il mio perimetro di responsabilità e tutto quello che avviene come input aziendali output opportunità di imparare crescita è collegato al mio lavoro che è la situazione puntiforme nel mio percorso di vita professionale invece io definisco carriera l'integrale se rappresentiamo questa curva nel tempo delle varie posizioni lavorative che assumiamo e delle varie cose che facciamo l'integrale quindi l'area sottesa da questa curva è quella che io definisco la la carriera cioè dalla realtà lavorativa che sto vivendo in questo momento tutto quello che potrò portarmi nella prossima posizione lavorativa nel prossimo colloquio con nella prossima sfida fa parte della mia carriera cioè fa parte di quel patrimonio di know how di conoscenze di competenze che rimarranno con me che non rimarranno attaccate all'azienda quando la lascerò ma le porteranno con me e perché questo è un concetto sul quale io cerco sempre di soffermarmi perché la prima sessione di career coaching o quando comunque mi interfaccio con delle persone che mi fanno delle domande sulla loro situazione di carriera sui progetti futuri mi rendo conto che il primo punto che dobbiamo sempre chiarire è collegato al concetto dell'identità professionale ne abbiamo parlato anche in alcuni video dedicati ma credo che sia fondamentale ribadirlo cioè l'identità professionale è esattamente il risultato del mio percorso della mia carriera non tanto quello che faccio o quello che ho studiato ma quello che mi ritrovo ad essere oggi professionalmente e soprattutto è il punto di partenza per la mia carriera futura una delle cose importanti per me e molto interessanti quando inizio a conoscere qualcuno di voi più approfonditamente è sempre approcciare questo aspetto ed è divertente vedere come le persone alla domanda ok ma tu come ti definisci professionalmente tipicamente si parte dal proprio titolo di studi no quindi sono un ingegnere sono un linguista sono un laureato in economia e commercio è il punto su cui io cerco un attimo di stimolare qualche riflessione è come puoi dopo 10 15 20 anni di lavoro definirti in base a un titolo di studi conseguito tantissimi anni fa c'è un è un titolo di studio è quello che è fatto in quei quattro anni come percorso accademico ma non è quello che fai successivamente quindi io oggi pur avendo la mia laurea in ingegneria elettrotecnica con tanto di abilitazione professionale e iscrizione all'albo anche se poi non l'ho rinnovata non posso definirmi un ingegnere sono assolutamente altro che oggi sono un manager che si occupa di determinate cose con determinate capacità che possono portare valore in certi aspetti del business e questo per me è un punto fondamentale che ci tengo a ribadire quanto siano differenti questi concetti per quanto complementari perché quando voi dovete fare delle scelte a livello di carriera a livello della prossima azienda da approcciare è importante che abbiate questo a monte come punto chiarito perché altrimenti rischiate di creare il prossimo step lavorativo come copia e colla di quello precedente no per cui se io dopo dieci anni mi definisco ancora ingegnere perché come aveva detto uno di voi dice ma questo è l'unico elemento fattuale che ho per poter definirmi no cioè perché lo era 15 anni fa quando ti sei laureato ma nei 15 anni di esperienza lavorativa ai molti più elementi oggettivi con cui puoi definirti poi definiti un project manager se ti sei occupato di quello puoi definirti un un contract manager puoi definirti uno specialista di relazioni di comunicazioni di marketing che è ben oltre altro e oltre il puro titolo di studio e quindi è importante che questo concetto sia chiarito perché quando approccerete il prossimo pivotal point della vostra carriera la prossima decisione su come spostarsi internamente o esternamente è importante che abbiate ben chiaro questo aspetto quella qual è la vostra identità professionale perché determinerà il tipo di aziende di posizioni e di opportunità lavorative che potrete affrontare e quindi ci tengo a ribadirlo come concetto perché può veramente far la differenza nel vostro futuro di carriera ciao matteo e ciao emanuele ben arrivati insomma quindi questo è stato un un punto davvero fondamentale grazie a tutti grazie a tutti